Gentili telespettatori, buona giornata. Ho visto un articolo simpatico, ho detto vabbè, faccio un video su questa notiziola. Ellie Schlein, ma come parla? Come parla? Perché dice questa frase che risulta un po' curiosa, se mi permettete il termine. Care tutte e cari tutti, grazie e grazie. Sorrisone. Risata, no? Vedete visto che la Schlein ride sempre, è una donna felice, va benissimo, lei ride sempre, sorride sempre, gioiosa, va bene. Care tutte e cari tutti, care tutte e cari tutti. Insomma, è un modo di salutare un po' curioso, al posto che gentili telespettatori potrei dire care tutte e cari tutti, vi piace? Sipario, potrei fare come il grande Costanzo, Sipario. Va bene. La Schlein parla così, la sua sinistra sarà ecologista, femminista, inclusiva e di governo. Il suo stesso linguaggio è inclusivo, dipenderà da tutte e cari alunni, un saluto a tutte e a tutti. Questa cosa dell'inclusività, politicamente corretto, io l'ho visto anche nelle comunicazioni dell'università. Molti poi eccedono, perché devi tutto metterlo al maschile e al femminile. Prima al femminile, poi al maschile. Quindi, grazie a tutte e tutti voi per questa cosa. Vi invito domani, cari alunne e alunni, tutto a specificare, perché ormai dire cari alunni, alunni? Ma è generico, alunni? Alunni? E le alunne? Saluto tutti voi. Tutti voi. E tutte no? Ma tutti e generico? No? Tutte e tutti. Oppure devi mettere l'asterisco. Tut. Saluto a tutti. I miei alunni. Ecco, dovreste cancellare l'ultima lettera, quella che può definire... Eh, no. Car tut, voi. Grazie cari alunne? Il mondo è veramente precipitato in un abisso. Una parte del mondo, eh? Va bene. E così, eh, lei ha un linguaggio inclusivo che è faticoso, perché ogni cosa che dici devi pensarla qualche secondo prima, perché potresti incappare nel dimenticare il tutte e i tutti, e allora... e allora sono che... che voli a meri. A meri, a meri, c'è a meri. E così, in attesa di trovare il modo per replicare anche oralmente la schwa, sarebbe l'uso degli asterischi al posto delle vocali finali nella parole. Quindi, quando parli non puoi mettere gli asterischi, no? A tutti gli alunne asterisco. Come dire, alunne asterisco. Inclusivo. In quel alunne asterisco dentro c'è tutto, no? Alunne asterisco. Questo schwa, se lo pronuncio bene, schwa, schwa, bu, è l'uso degli asterischi, però quando parli non puoi mettere gli asterischi. Allora devi specificare alunne, alunne e alunni, ascoltatemi, allora... va bene. Quindi la schline si trova in questa difficoltà che può scrivere con gli asterischi, ma non puoi parlare con gli asterischi. Poi abbiamo Ellie Schlein, che è ossessionata dalla destra, perché dice sono deboli con i forti e forti con i deboli. Non hanno il coraggio di dire ai loro alleati in Europa, come Orban, che non si può volere i benefici dell'Unione Europea se non se ne condividono le responsabilità. Vorrei sentirlo dire a Giorgia Meloni. E ancora parla di risposte sbagliate del governo di Giorgia Meloni, il governo più a destra della storia repubblicana, noi siamo altro. Loro sono altro? Sì. Allora, il governo più a destra della storia repubblicana. Questo è il primo governo di destra, scusi Schlein, è il primo governo di destra. Non è il più a destra, ma il primo governo di destra. Questo è un governo di destra-centro. Prima sono stati tutti di centro-destra. Sì, quando governava Berlusconi possiamo dire governo di centro con la destra, perché lui aveva la maggior parte, lui era il fondatore, centro-destra. Oggi è un governo di destra-centro, dove la parte minoritaria è il centro, Berlusconi. Salvini di destra, il partito di Salvini possiamo definirlo di destra, la Lega? Diciamo è un certo tipo di destra. Un certo tipo di destra. Però non addentriamoci nelle definizioni, perché non finiamo più. E quindi quel noi siamo altri, che dice la Schlein, altro che cosa. Esattamente che cosa. Ma lei dice che lei è per gli italiani di nuova generazione. Che sono gli italiani di nuova generazione? Un nuovo tipo di robot, no? Di ultima generazione, no? La generazione al 2023, no? Gli italiani di nuova generazione sono le nuove generazioni, sta parlando. Eh sì, lei giovane, con Santori e la Cristallo, lo zainetto, il centro sociale, vorrebbero diventare il simbolo delle nuove generazioni. Però per diventare il simbolo delle nuove generazioni ricordiamoci che oggi c'è un governo di centro-destra, quindi le nuove generazioni probabilmente in gran parte, in maggioranza, hanno votato centro-destra. Pertanto noi siamo per gli italiani di nuova generazione, ma di nuova generazione di centro-sinistra. Non credo che voi siate anche per gli italiani di nuova generazione di centro-destra. Ecco. Poi vogliono fare opposizione all'autonomia differenziata, muro sulla riforma fiscale, abolire la Bossi Fini. Beh, possiamo comunque dire che la Schlein si sta addentrando nei temi. Comunque sta cercando di avere una sua agenda politica. Io preferisco una Schlein che piuttosto che dica e canti bella ciao, che abbia, dire, le mie cose sono no alla riforma fiscale, no alla Bossi Fini, no all'autonomia differenziata, sia al salario minimo, sia alla questione climatica. Ecco. Meglio avere delle idee, in modo che il suo elettorato può scegliere se votarla o no in base a queste idee, che cantare bella ciao e andare alle manifestazioni antifa. Ecco. Meglio le idee, meglio che il PD si riempia di idee, che sono le loro, ognuno poi alle sue, condivisibili o no, meglio avere idee che dirigere una scatola vuota cantando bella ciao con l'econo, perché nella scatola vuota bella ciao, perché c'è l'econo. Va bene. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata. Arrivederci e grazie.